Teambex è un'industria del nord-est che opera nel settore del mobile e dell'arredamento per interni. La nostra è una storia semplice, una storia fatta di uomini animati da una passione, costruire accessori, componenti e complementi per mobili, solidi, accattivanti, duraturi, in una sola parola di qualità. Qualità per il piacere del tatto, design per l'estasi della vista, funzionalità per l'uso quotidiano, ergonomia per la comodità del vivere, l'attenzione per il particolare, la scelta dei materiali, le soluzioni di design, le innovazioni tecnologiche sono il cardine della nostra azione. Ma il vero centro è l'uomo. Dall'analisi delle esigenze, dallo studio delle soluzioni, dal confronto con le vostre idee, insomma dal dialogo, nascono i nostri prodotti. Perché la nostra è un'azienda fatta di persone che parla alle persone. L'ampia flessibilità produttiva ci permette sia di realizzare prodotti su disegno del cliente, sia di assumere la progettazione a carico del nostro team di sviluppo e design. Realizziamo componenti e complementi per mobili per note aziende nazionali ed estere che producono divani, soggiorni, camere, cucine, mobili da bagno, arredo navale, arredo per negozi, pavimenti ed altro ancora. La gran parte della nostra produzione viene esportata in tutto il mondo. È il Made in Italy. Qualche nome? vorremmo farlo. Ma la riservatezza è da sempre una nostra caratteristica distintiva. Siamo sul mercato dal 1975. La longevità ci ha insegnato molte cose. La prima è rispettare i nostri clienti. Questo è per noi il significato di riservatezza. Ma una cosa possiamo dirla, siamo fieri delle nostre realizzazioni perché sono la sintesi di un processo di dialogo e sinergia con i nostri clienti. Quando il sole cala e le stelle si appendono al cielo, la luna, riflessa sulle nostre superfici laccate, appare in tutta la sua morbida rotondità. È su questa idea che vogliamo salutarti e ti